Amici software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 157esima puntata del podcast di Marcos Box. Lo sentite il freddo? Ma che bello il freddo. Il piede da sera, il teino caldo, le calda rosso... No, le calda rosso no perché quelle stanno a 4,99 al Q. Maledetti, maledetti. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source, nonché anche a documentare la mia consulita sfiga informatica. Prima di cominciare la puntata concedetemi un minuto per parlare di alcune novità presenti sul blog che hanno messo in allarme alcuni di voi lettori e fatto stracciare in nasa ad alcuni puristi. Come avete avuto modo di vedere, sto tornando a concedere un po' di spazio a notizie riguardanti il mondo Windows. Non preoccupatevi, sono sempre il vostro amichevole pinguino di quartiere. È solo che per lavoro sono costretto a utilizzare Windows ed è giusto di tanto in tanto dargli un po' di spazio in quanto fa qualcosa di interessante come la nuova funzionalità di Paint che vi ho parlato la scorsa settimana o come a scotterete più avanti nella puntata quando si palesano bug incrociati tra Nvidia, Chrome e Windows. Bug che questa volta non affliggono soltanto il sottoscritto. L'altra novità riguarda la trascrizione del podcast che trovate a partire da questa puntata. Mi è stato suggerito da alcuni di voi e ho deciso di ripristinarla. Dico di ripristinarla perché in passato alcune puntate l'hanno avuta, poi per pregrizia la pregrizia ha avuto il sopravvento. Ho optato per trascrivere manualmente il testo anche se molti di voi sul canale Ethereum mi avevano suggerito di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale. Il motivo è così un testo da usare anche come copione per il podcast e avere meno ISO eccetera durante la registrazione. Quindi con una fava, due piccioni. Banda le ciance e cominciamo questa puntata. Apriamo la puntata parlando di Mozilla e di un'altra delle sue iniziative correlate al benessere dei naviganti. Mozilla ha pubblicato il Cryptometer, un report che avrà cadenza annuale dedicato alla privacy digitale. Nel report vengono analizzati diversi prodotti digitali di elettronica di consumo, valutando le caratteristiche di sicurezza, i dati che raccolgono e con chi li condividono. Sulla base di questa analisi viene poi stilato un punteggio globale per l'anno appena trascorso. Il vuoto finale va da non inquietante a super inquietante. Ebbene, dall'analisi di quest'anno il 2023 è stato etichettato come molto inquietante, poiché i prodotti stanno sì diventando più sicuri, ma stanno anche diventando meno privati in quanto le aziende raccolgono i dati degli utenti come mai prima d'ora. Un numero crescente di prodotti poi non può essere utilizzato offline e ducis in fondo le politiche sulla privacy stanno diventando uno scudo per le aziende, anziché una risorsa per i consumatori. Mozilla ci dà anche alcuni suggerimenti su come arginare il problema, che sono i classi suggerimenti che noi utenti consapevoli dispensiamo gratuitamente ad ogni parente o amico e spesso lo facciamo anche senza che ci venga chiesto, con il risultato di essere presi per stampi. Ma questo è un altro discorso. Quali sono i suggerimenti? Beh, ovviamente il primo è quello di abilitare tutte le funzionalità di sicurezza messe a disposizione. Quello poi di scegliere password univoche e complesse, attivare sempre due fattori, attivare le eventuali funzionalità dei dispositivi per ridurre la raccolta dei dati e infine quello più sensato, ovvero se un prodotto non vi fa sentire a vostro agio con la privacy, beh, non compratelo, prendete magari un prodotto concorrente più rispettoso della privacy. Io da par mio, oltre a prendere suddette dovute contromisure, da qualche tempo ho anche deciso di abbandonare smartband e smartwatch, sia per una questione di distrazione ma anche per una questione di privacy, in quanto i dati personali che questi dispositivi raccoglono in maniera silenziosa è elevato. E voi che cosa fate al riguardo? Fatemelo sapere nei commenti. Restiamo a parlare di Mozilla e del suo browser web, unica vera alternativa allo strapotere dei browser basati su Chromium. Mozilla ha rilasciato la versione 119 di Firefox, ovviamente per Linux, Windows e Mac OS. Questa nuova versione va a migliorare le funzionalità di Firefox View rendendolo più smart, consentendoci di vedere anche le schede aperte su altri dispositivi, migliora la gestione della privacy migliorando i suoi strumenti per ridurre il tracciamento dei siti, e infine va a migliorare le funzionalità di modifica PDF, aggiungendo la possibilità di aggiungere immagini. Ricordo questa ultima funzionalità e mi è capitato spesso di usarla in ufficio per compilare moduli da inviare ai fornitori, e trovo carina questa aggiunta. L'unica appunto che mi viene da fare è, non sarebbe meglio fare un prodotto separato e non appesandire il browser? Anche perché immagino che mantenere questa funzionalità dentro Firefox richieda forza lavoro, sia per mantenere che per gestire gli eventuali bug incrociati. E voi cosa ne pensate? Anche voi siete della stessa opinione? Passiamo ora a parlare della mia consueta sfiga informatica. Sfiga che, a quanto pare, è indipendente dal sistema operativo utilizzato. Recentemente, durante l'utilizzo di Google Chrome su Windows, mi sono imbattuto in strani artefatti che comparivano in maniera assolutamente randomica durante lo scrolling delle pagine, specie su YouTube, ma anche su tutti i siti che avevano video embeddati. Indagando sul web, ho scoperto che il problema si manifesta soltanto su Windows, con driver Nvidia e con qualsiasi browser web basato su Chromium. Di chi sia la vera colpa ancora non si sa. Molti danno la colpa a Chromium, altri ai driver Nvidia, altri ancora al Windows. Fatto sta che il problema esiste da diversi mesi ed è stato segnalato anche sui forum del sito ufficiale di Nvidia. Per fortuna ho trovato un workaround, di cui vi parlo sul blog, che consiste nel modificare un'impostazione in settaggi del browser web impostando su OpenGL il back-end grafico per angle. Sto testando questa impostazione e sembra funzionare, fra l'altro ho trovato diverse discussioni su Reddit che suggerino la stessa modifica e anche loro hanno risolto il problema. Questo problema mi ha fatto pensare anche ad un altro bug che si manifesta con gli ultimi driver Nvidia proprietari Nvidia su Linux e che ancora non è stato risolto. Insomma, va fatta una bella tiratina di orecchie Nvidia che sta facendo un po' di pasticci ultimamente. Speriamo che Nvidia riescano a fixare il problema nelle prossime versioni dei drive perché entrambi sono problemi alquanto fastidiosi. Raraccendomi poi a quanto già detto nelle altre puntate del podcast, questo bug dei browser basati su Chromium è un segno evidente che l'attuale situazione di monopolio va scardinata in quanto un potenziale bug di sicurezza che affigge Chromium, se non scovato per tempo, potrebbe avere serie di percussioni su web. Viva dunque la biodiversità e viva Firefox. Passiamo adesso a parlare di distribuzioni Linux e parliamo di Linux Mint. Ottobre è ormai finito e dunque, come da tradizione, è arrivato il consueto post di incremento di febbre con le ultime novità dal fronte al disegruppo di Linux Mint. Questo mese è particolarmente interessante perché i team di Linux Mint finalmente iniziano a parlare del supporto a Wigland, anche se come vedremo non ci sono buone notizie nel breve periodo. Ebbene sì, il team di Linux Mint ha annunciato di aver iniziato a lavorare per raggiungere il supporto a Wigland per Cinnamon. Ci hanno mostrato anche una schermata di Cinnamon in esecuzione su Wigland, segno che ci stanno lavorando da tempo e qualcosa già funziona. Gli sviluppatori di Mint non si aspettano che Wigland sostituirà Xorg come impostazione predefinita per Cinnamon nel breve periodo, né per l'imminente rilascio della versione 21.3 né per Mint 22.x che arriverà il prossimo anno e che sarà basato su Ubuntu 24.04 LTS. Per ora, in concomitanza con il rilascio di Cinnamon 6.0 previsto per Linux Mint 21.3, arriverà il supporto a sperimentare a Wigland. Sarà possibile scegliere tra Cinnamon, sessione predefinita eseguita su Xorg, e Cinnamon o Wigland, facendolo dalla schermata di accesso. La sessione Wigland non sarà stabile come quella predefinita, mancherà di funzioni e avrà delle sue limitazioni. Il suo utilizzo non verrà raccomandato, ma potete provare se volete e sarà a disposizione degli interessati che vorranno fornire un feedback. Molte cose sono mancanti o non funzionanti, però abbiamo comunque una sessione funzionale con la gestione delle finestre, applicazioni e spazi di lavoro. Siamo inoltre in grado di effettuare i login, eseguire la maggior parte delle applicazioni, manipolare finestre, spazi di lavoro, nemo funzioni, pannello funzioni, insomma qualcosa c'è di funzionante. Voi che cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti? Fatemelo sapere lasciando un commento. Spostiamoci ora su Ubuntu. Canonical ha finalmente annunciato il nome in codice di Ubuntu 22.04. La prossima LTS avrà come nome in codice Nobel Numbat e verrà rilasciato il 25 aprile 2024. Ovviamente è ancora presto per parlare delle novità in arrivo sulla distro, l'unica cosa su cui possiamo sbilanciarci è che quasi sicuramente vedrà l'utilizzo di Gnome 46. Stando alle voci di corridore dovrebbe arrivare anche la tanta attesa edizione immutabile di Ubuntu basata su Snap. Vedremo comunque nei prossimi mesi cosa deciderà il team di sviluppo della distro. Per conoscere tutte le tappe intermedie che ci separano dal rilascio finale vi invito a leggere l'articolo dedicato sul blog dove troverete il piano di rilascio integrale. Concludiamo la puntata parlando di Fedora e del suo team di sviluppo che, a caso di alcuni bug ancora risolti, ha deciso di rimandare di qualche giorno il rilascio di Fedora 39, tornando così a essere la cara vecchia Fedora di un tempo. Io ci scherzo sempre su questa cosa dei ritardi dei rilasci di Fedora. In passato era anche una consuetudine non rispettare i piani di rilascio. Se per un tempo li prendevo in giro ora con qualche pelo di barba bianca sul viso non posso che apprezzare questa scelta. Meglio prendersi qualche giorno in più prima del rilascio della distro che offrì un prodotto potenzialmente problematico. Il 2 novembre si terrà un nuovo incontro degli sviluppatori che dovrà dare via libera al rilascio della distro e, se i bug saranno risolti entro quella data, Fedora 39 verrà ufficialmente rilasciata il 7 novembre. Speriamo bene. Ecco questa ultima notizia. Si conclude qui questa 157esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre vi invito a seguirmi numerosi sulle pagine social su Facebook, X, LinkedIn, Mastodon, ma anche su YouTube e Telegram. Vi ricordo in otte che su Telegram trovate tre canali per seguire il blog, la pagina principale con le notizie che potete utilizzare a modo di feed reader, la community Telegram dove potete discutere di tutto quello che vi interessa ed infine un canale Telegram con una serie di offerte Amazon da me selezionate che potete utilizzare per supportare il blog grazie ai link affiliazione. O, se siete più smanitoni, potete utilizzare direttamente voi il codice referral marcosbox-21 che trovate linkato sul blog. Beh, un saluto a tutti quanti, lunga vita e prosperità e ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao.